Il massimo del fulvore dell'impero, fine del secondo febbre. Siamo in questa bellissima manifestazione, la quale rispetto a quanto io potevo immaginare quando negli anni 60 incominciavo a rendermi conto del processo in corso, dove ovviamente grazie anche alla letteratura che all'epoca già c'era e stavo leggendo, si stava appunto prospettando questa operazione che i loro signori stanno conducendo con molta lentezza e con molta appropriatezza per il dominio assoluto della razza umana, chiamiamolo ancora la razza umana. Il controllo anche genetico e anche demografico, espansivo, di una cultura rispetto all'altra, basta vedere per esempio quello che è successo in Cina negli ultimi due secoli, che prima l'hanno compresa, l'hanno distrutta, 50 milioni di morti nella grande fuga. La grande marcia, la grande marcia e poi la guerra civile e poi ancora la fame più nera, il maoismo, il libretto rosso eccetera eccetera e poi i quattro e poi ancora dopo un po' l'espansione economica grazie alle finanziarie multinazionali, non ce lo scordiamo mai. Certamente. Che se i cinesi oggi sovivono in una fase di espansione epocale, di storica, economica, sociale eccetera, è dovuto all'interesse delle grandi famiglie finanziarie internazionali che producono o distruggono un ossato a seconda del vantaggio che possa derivare per loro. Allora, visto che tu hai citato la Cina, dobbiamo ricordare che la Cina è stata teatro di uno scontro formidabile che ha visto come due contententi il cartello della ESSO, cioè il cartello di Rockefeller e il cartello anglo-olandese della British Federal, che era la cartella della Shell. Questo cartello è quello che si è combattuto e si è combattuto anche sostanzialmente dietro le quinte del primo e del secondo conflitto mondiale, non lo dice mai nessuno, noi lo dobbiamo dire. Matteotti, raccontiamo la storia di Matteotti. Poi quella storia lì che non so se qualcuno ha notato, qualcuno degli amici a cui io ho mandato quello scritto eccezionale del nostro amico Napoli Bera, dove sta parlando di come la ex moglie di un personaggio che aspirava a diventare Presidente della Repubblica Francese ed è scivolato in una buccia di banana, una buccia di banana, cosa assolutamente non vera. Comunque, in ogni caso, la moglie di Strauss-Kahn, ma la moglie ha riacquistato il suo cognome che è Sinclair, che è quella della famiglia dell'industria petrolifera inglese, la quale era mandante del signor Ardito Desio che andava in Libia per conto dell'Italia. La Sinclair è stata l'autentica mandante del delitto Matteotti e vedi caso che sono sempre loro, sono sempre loro che stanno dietro a queste cose, è importantissimo. Il dinosaurino, il simbolo del dinosaurino, tant'è vero che l'amico Napoli Bera ha sottolineato l'ultima frase di quella bellissima email che ci ha mandato, in cui dice un nome molto familiare a casa Savoia e i conti tornano perfettamente. Tutto coinvolto, Sinclair, masoneria, sionismo, mondialismo, ebraismo, finanza internazionale. In Savoia avevano già le società che estraevano il carbone in sardegno, insieme alla marmo che faceva da... Altra quella, altra quella, comunque vedi caso Matteotti è morto mentre stava per documentare alla camera gli accordi tra la Sinclair e casa Savoia. Allora, l'accordo sosterraneo tra Sinclair e casa Savoia contro gli interessi nazionali, è ovvio, è ovvio, è ovvio, Vittorio Emanuele III era andato perciò stesso a fare un viaggio direttamente in Inghilterra e questa è già stata una manifestazione di una chiarezza estrema anche dal fatto che ci hanno accusato Benito Mussolini, il quale non c'entrava niente. No, anzi, aveva cercato di salvare l'insalvabile in più occasioni. Infatti, come capita sempre, che lo fanno vedere anche nei film, dove si vede sempre che quello che viene messo in mezzo spesso è proprio la persona che invece è vittima della congiura. Allora, nel XX secolo noi abbiamo avuto delle personalità eccezionali, uno di questi ovviamente è quello che ha parlato nel libro intitolato 1984, che ha fatto vedere il progetto. George Orwell ha fatto vedere in maniera molto chiara qual era il progetto, ma un altro che ha narrato più o meno le stesse cose e le stesse intenzioni è stato un grandissimo autore, tra l'altro pure ebreo, quindi faceva parte di quegli ebrei che denunciavano i progetti e che risulta essere morto suicida. Ma tu hai letto il romanzo Dottor Mabuse, ed è del 1912, già nel 1912 raccontavano le cose che poi hanno messo in atto nel 1935-1940. Il romanzo Dottor Mabuse, quindi tutte queste cose messe assieme ci ha portato a questa posizione e è una posizione che io francamente non pensavo che saremmo arrivati a questa esplicitazione della manomissione sostanziale della razza umana, perché il fine... Dei governi, dei parlamenti, degli stati... Quello che noi abbiamo sempre preconizzato è la trasformazione, ma c'è anche il grande scrittore di fantascienza... Isaac Asimov... No, no... Jules Verne... No, no, no... Isaac Asimov... No, ma Dick... Ah, C-K-Dick... Eh, appunto, certo... Che non a caso l'hanno ammazzato in manicomio come voleva fare con Ezra Paolo... Esattamente, esattamente... Il quale, ovviamente, aveva visto quello per le intenzioni esatte di questo... L'uomo a metà, l'uomo mezzo automa e mezzo carne... Androide... Quindi, diciamo che qui ci troviamo di fronte all'inizio di una presa di coscienza, ci auguriamo che questa presa di coscienza non abbia solo la spinta degli interessi del Vaticano, perché queste cose le dobbiamo dire, tuttavia... E' l'umanità intera che si deve difendere per non cadere nella rivalità fra androide e uomo, e lì, cioè, noi dovremmo convivere nei prossimi 20-30 anni con due generi di esseri senzienti, l'umanità e i cibernauti, i cibernetici... I cibernetici... I cibernetici, un cibernauto è uno che naviga nel cibernetici... Entro al massimo vent'anni avremo tutti i posti di lavoro messi a disposizione di androidi, di computer, di pc intelligenti, di macchine elettroniche intelligenti o di robot intelligenti che faranno qualunque tipo di lavoro, anche quello del ricercatore scientifico, del ricercatore naturale... Cioè un uomo e la macchina, cose che queste ancora non hanno capito... E il surrogato della macchina, che è l'applicazione attraverso tecnologie di macchina, anche alla nascita stessa dell'uomo... Esattamente... E quindi ecco, anche nell'interpolazione, nella manipolazione della genetica umana diventiamo succubi delle macchine, quindi diventiamo, soggiacciamo a questa funzione indotta di nascere attraverso le macchine, è una cosa folle... Esattamente... Questa è la cosa che tu hai nulla da dire in merito, allora direi che vediamo la qui per il momento... Ciao a tutti! Sempre so long! Ora, Gimito, sono molto contenta... So long! Aleggia Priaco!